49 persone che sono state uccise a sangue freddo nel venerdì di preghiera. Erano uomini, donne e bambini. Stavano in due moschee in una cittadina della Nuova Zelanda. L'autore, forse da solo, forse no, ancora non si sa con certezza, ha 28 anni ed è un australiano. Ha deciso di fare questo gesto perché è infarcito d'odio contro i musulmani ma anche contro i migranti. Colpevoli, secondo lui, di perpetrare un genocidio di bianchi. Poi ha filmato tutto, ha filmato tutto e l'ha messo anche sui social network. Ha firmato la macchina, le sue armi, dove aveva segnato anche nomi di persone che avevano compiuto altri massacri. Vediamo. Oltre alla gravità della motivazione, alla disumanità, la strage della Nuova Zelanda colpisce anche per la modalità in cui è stata condotta. Come se non fosse sufficiente uccidere, ma anche il come si uccide. La scena riporta ad un videogioco, cioè la condizione in cui un ragazzo con una pistola o una mitraglietta in mano cerca di eliminare delle sagome umane che si presentano in vivo e le deve uccidere il più possibile. Questo è un tema che rende sempre più difficile distinguere la virtualità dal mondo concreto. Ma qui il protagonista asporta sulla testa anche una camera per riprendere ciò che fa e poi per lanciarla in diretta, in streaming, perché oggi esistere significa fare le cose in video e all'attenzione dei followers di molti. È probabile che questa tecnica serva anche per presentare a chi osserva qualche cosa di giocoso, un videogioco, quasi per sottolinearne la banalità, come se noi fossimo assuefatti a qualche cosa che ci distrae. Ma stiamo attenti perché qui la strage non è di sagome umane, ma di vite umane. E quindi dobbiamo evitare di pensare che è qualche cosa che ci diverte e dobbiamo reagire. perché è gravissimo quello che è successo. Io non so come definirlo, ma mi viene sempre in mente il titolo di un libro di Primo Levi, Se questo è un uomo.